quarte di finale super 8 schema 3 contro palazzine punteggio 5 a 1 per gli schemi 3 ho appena subito un gol diciamo possiamo dirlo anche stupido quasi un autogol anzi si può dire poco un autogol 5 a 1 per gli schemi 3 ciao geni state con ora anche la signoria ferraro oppure signoria stanziano nessuno è esultato tutti tristi se ne niente sergio prima c'era tutto vantigio tutto bianco ghiacciato ghiaccio ghiaccio c'erano il ghiaccio belle ragione con il giallo spettacipato con l'acqua è come l'ho bellissimo guarda che gol che fa ruggero che culo preseleca lo cancelliamo perché non ha ancora parlato l'iscrizione non è impossibile guarda che imbecilia aldo di vito non mi venite addosso grazie a me ci vediamo venerdì facciamo le semifinali ok o alle 7 o alle 8 ciao 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 i felli che l'ha chiamo ha perso hanno perso hanno perso e hanno vinto e Chi ha vincitato l'albiccio? Sì, si è scritto con i figli da due anni e mezzo Dove? Torniamo di? No, non si è tornata Ah, si è... Senti, tieni un attimo Vabbè, chiudiamo il collegamento Ringraziamo il Palermo E gli Schema 3 Per questi bellissimi tre minuti Dedicati al Super 8 Un saluto da Max Da Sergio E tutti i ragazzi a campo Ciao